Vi do il benvenuto sul canale degli amanti di Ozge Yagitz e Gokberk Demirci. Ozge Yagitz e Gokberk Demirci, amati da tutti e guardati con grande ammirazione, hanno attirato l'attenzione con nuove immagini sui social media. Una foto di famiglia è arrivata dai nostri giocatori Ozge e Gokberk Demirci e tutti i follower hanno apprezzato molto questi post. Foto bellissime e immagini accattivanti di giocatori di successo saranno sul nostro canale per te. Pose speciali per le vacanze per i fan di Ozge e Gokberk Demirci. Cari follower, non dimenticate di guardare il nostro canale per le notizie attuali, sostenerci e mettere mi piace al nostro video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!